ciao oggi il 25 aprile la festa della liberazione e purtroppo per la prima volta non potremo festeggiarlo come di consueto causa dell'emergenza del covi 19 e vi porto quindi saluti del sindaco dell'amministrazione comunale e ringrazio le associazioni l'associazione nazionale partigiani d'italia l'associazione nazionale combattenti reduci e l'arci di san cesario che hanno lasciato dei piccoli video messaggi per la cittadinanza in modo tale da poter comunque celebrare tutti insieme questo anniversario che è il 75esimo quindi una data molto importante ci tengo in particolar modo a lasciare un messaggio ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado pacinotti che quest'anno avrebbero dovuto accompagnarci lungo appunto il cammino della memoria quindi lungo le tappe salienti del territorio di san cesario che hanno visto combattere proprio la resistenza e poi la liberazione successiva non ci sarà la camminata quest'anno ma grazie allo storico daniel degli esposti ripercorremo insieme un po tutti i momenti storici della resistenza fino ad arrivare alla liberazione in particolare ci concentreremo sulle zone di san cesario e di castelfranco cari ragazzi il mio è un augurio vi auguro di vivere la liberazione ogni giorno e vi invito a consultare le testimonianze sia quelle online ma anche i vostri nonni vostri bisnonni che hanno vissuto quei momenti e a documentarvi sempre vi lascio con un messaggio che ci ha lasciato due anni fa la senatrice liliana segre la quale sostiene che gli italiani dopo avervi dopo aver vissuto la democrazia e la libertà devono mantenerla quindi ragazzi combattete sempre per i vostri diritti e per la vostra libertà ciao 25 aprile è la festa della liberazione è una data simbolo che ha fondato l'italia repubblicana e democratica le radici della nostra costituzione nascono dalla lotta di liberazione e nella resistenza al nazifascismo nessuno pensi di cancellare i 25 aprile questa giornata rappresenta la data fondativa dell'italia democratica come ampi intendiamo celebrare il 75esimo della liberazione con un concetto di fondo essere memoria attiva abbiamo bisogno non solo di mantenere viva la memoria ma soprattutto di diffonderla diffonderla affinché tutti non solo le nuove generazioni affinché tutti sappiano quali sono le fondamente democratiche sulle quali si regge il nostro paese alla base della costituzione ci sono i valori della resistenza i valori dell'antifascismo e se noi oggi abbiamo questa costituzione la dobbiamo ai partigiani e alle partigiane che combatterono e ai tanti come gabriella degli sposti che persero la vita in nome di quegli ideali e la dobbiamo anche alle popolazioni civili che non oscanto i pericoli e le violenze dei nazifascisti sostenono la nota di liberazione assistiamo sempre più frequentemente ad episodi di fascismo di razzismo di dileggio verso il 25 aprile e verso bella ciao ci sono ex ministri giornalisti forze neofasciste forza nuova casa pound che pur di disconossere la natura travestono il 25 aprile in qualcosa d'altro festa dei caduti del piave della lotta al virus la nostra costituzione prevede il divieto di ricostituzione del partito fascista serve un impegno più alto occorre un impegno più alto da parte di tutti dalla magistratura compresa sulla rete c'è una totale mancanza di controllo sui contenuti dei social network lampi alcuni anni fa realizzò una ricerca vennero individuati più di 500 siti di propaganda nazifascista che chiamammo la galassia nera serve una normativa severa non ci si può nascondere dietro al diritto di opinioni perché come disse sandro pertini il fascismo non è un'opinione il fascismo è un crimine in questa fase di emergenza sanitaria dove siamo limitati nelle nostre libertà utilizziamo anche un po del nostro tempo alla lettura la ricerca la conoscenza della nostra storia i capitoli resistenza liberazione costituzione repubblica buon 25 aprile sono presidente dell'associazione reduci combattenti vorrei fare gli auguri del 25 aprile festa della liberazione sia alla tutta la giunta i consiglieri il sindaco e tutti e la popolazione e tutto il francese con tanti ringraziamenti del feste ricordiamoci che festa della liberazione buongiorno per la commemorazione del 25 aprile il consiglio direttivo del circo l'argi fa gli auguri all'amministrazione comunale e alla comunità san cesarese una mattina mi sto svegliato una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso